ecco ok, zoomando sulla colata si vede proprio come cala scatto a raffido e quindi quando vuoi qualcosa la prendi lo stesso modo? scatto a raffido velocissimo quasi video questo è il nord est che giornata si sto facendo tutta la cieca ecco 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 ah ma questa è proprio bella ok 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 ecco da qua porca miseria a beirà non è c'era un po' di ah c'era un po' di questo spettacolo mamma mia ah 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 bebe ispo ah 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 Grazie a tutti